Ciao a tutti amici di Amazon, piccolo unboxing e due poroline su questo supporto per smartphone della Micole, dove ragazzi l'unica cosa che vi posso dire è fate videochiamate, vi serve un supporto per il telefono mentre magari scrivete con una tastiera, dovete sorreggere il vostro smartphone per guardare i video o per qualunque altra cosa, io vi dico acquistatelo, senza neanche guardare il video acquistatelo perché è meraviglioso è fantastico, perché è fantastico? Vabbè scatola piccolissima, questo qua non c'entra, scatola piccolissima qua avete un piccolo librettino con dentro qualche informazione che a noi non ci serve comunque a me interessa questo, ovvero il supporto per il telefono, il supporto per il telefono che è bellissimo esteticamente bellissimo, avete visto che questo qua è lui richiuso quindi non occupa neanche tanto spazio la cosa bellissima di questo supporto è che è molto robusto, abbiamo plastica e metallo perché questo qua è in metallo questa in plastica comunque dura, qua abbiamo della gomma per far sì che il nostro smartphone non si muovi e anche qui sotto abbiamo della gomma per far sì che quando lo appoggiate sul tavolo lui non si debba muovere un'altra cosa carina è questo, questa specie di levetta che voi tirate giù così vi sorreggerà tranquillamente il vostro telefono e in più potrete andare a caricare il vostro telefono perché qua c'è giustamente l'alloggio per poter inserire qui il cavo senza doverlo mettere sotto o che non vi faccia stare dritto il telefono il supporto ha comunque anche un allungamento ovvero che questo braccio si può allungare come potete vedere si può allungare, questo qua si può muovere a 360 gradi se non sbaglio sì perché si gira tutto, invece questo qui arriva a 90 e poi si può piegare tutto in giù ecco qua tutto in giù così, ecco questi sono i movimenti che può fare comunque ripeto è bellissimo, è meraviglioso, il telefono sta che è una meraviglia ok, ecco qua in entrambi i modi quindi se vi serve un supporto per il telefono io vi dico subito acquistatelo perché è meraviglioso ed è ben 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 fatto un saluto da Thomas e ti aspetto qui sotto con la recensione completa ciao a tutti